La ONG ELIS è un'organizzazione non governativa con oltre 30 anni di storia ed è presente in 21 paesi tra Africa, America Latina, Medio Oriente e Asia. La missione della ONG ELIS sia in Italia che all'estero è quella di promuovere lo sviluppo sostenibile ed inclusivo dei paesi e delle comunità in cui opera. Si tratta in particolar modo di rivolgersi ai soggetti più fragili della società utilizzando in particolare lo strumento della formazione. La formazione delle persone da un lato e la capacity building delle istituzioni e dei soggetti privati con cui ELIS collabora in tutto il mondo rappresentano l'elemento trasversale e costante a tutte le nostre iniziative. I nostri settori di intervento sono molteplici. La formazione professionale e l'inserimento lavorativo dei giovani, la promozione dell'imprenditoria giovanile, l'empowerment delle donne, la tutela dei diritti umani, il settore sanitario e infine l'agricoltura sostenibile. In Italia l'ONG ELIS è attiva con iniziative sociali rivolte principalmente a sradicare la povertà educativa che colpisce un numero sempre maggiore di bambini e adolescenti, formare giovani migranti e minori stranieri non accompagnati attraverso la formazione al lavoro e accompagnamento personalizzato, promuovere l'empowerment delle donne in condizioni di disagio socio-economico e incoraggiare il reinserimento sociale dei giovani sottoposti a misure di giustizia penale minorile. La peculiarità dell'ONG ELIS è duplice. Essa è innanzitutto un centro di formazione professionale con oltre 50 anni di storia in Italia. Ciò consente di poter adattare e replicare all'estero dei modelli virtuosi di sviluppo, in particolar modo nel collegamento scuola-impresa, modelli già testati e valutati in Italia. D'altro canto, l'ELIS banta una relazione privilegiata e stabile con imprese del settore profit, sia in Italia che all'estero, con le quali coprogetta e realizza delle iniziative di sviluppo. Vale la pena lavorare in ELIS perché con il lavoro di tutti i giorni si riesce a contribuire anche in minima parte al benessere delle persone in tutto il mondo. Ogni volta ogni numero, ogni pagina, ogni parola che è scritta in un documento di progetto poi si trasforma veramente nel volto di una persona, nel volto di un bambino, nel volto di una donna, nel volto di un ragazzo che ha avuto l'effettiva possibilità di cambiare la propria vita.